Aree di crisi industriale insopportabili all'esclusione di Lentini, Carlentini e Francofonte. L'esclusione dalle aree di crisi industriale complesse del polo petrolchimico di Lentini, Carlentini e Francofonte è insopportabile sia per come è avvenuta sia soprattutto per la contiguità dei territori che nessuno può mettere in discussione, lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Preliminarmente, tengo a precisare che il Ministro dello Sviluppo Economico non ha mai escluso dalle aree di crisi industriale i tre comuni e che, mi auguro, trattasi solo di refusi giornalistici che stigmatizza e condanno in quanto un argomento così importante non può essere affrontato ricorrendo alle menzogne spicciole e alle calunnie. La Lega anzi sottoporrà la questione direttamente al Ministro Giorgetti per verificare se in sede di contrattazione romana i comuni esclusi dalla Regione possono essere recuperati dallo Stato attraverso l'abile regia del Dicastero e dello Sviluppo Economico in quanto, ha proseguito Vinciullo, il provvedimento della Regione è palesemente discriminatorio e non tiene nemmeno conto del ruolo importantissimo che la zona discriminata svolge in tema di raccolta di rifiuti e accumulo e ridistribuzione delle acque anche alla zona industriale. Una Regione matrigna, ha concluso Vinciullo, pronta a prendere il massimo possibile e poi indifferente alle istanze dei territori.